Temporali e pioggia abbattente da Soverato a Catanzaro Lido, disagi e allagamenti. Un improvviso e violento temporale si è abbattuto sulla costa ionica in provincia di Catanzaro, provocando allagamenti e disagi alla circolazione. I maggiori problemi si sono registrati nel quartiere Lido del capologo calabrese a causa di una forte pioggia che ha riversato sulle strade fango e detriti, rendendo difficoltosa la viabilità. È a Soverato dove si sono registrate anche una tromba d'aria e forti raffiche di vento. Preoccupazione dappertutto per i bagnanti, che ancora oggi affollavano le spiagge nell'ultimo weekend di agosto. Anche sulla Statale 106 sono stati segnalati alcuni problemi alla circolazione, in particolare all'altezza di Copanello di Staletti, con il traffico rallentato a causa dei detriti che si sono accumulati sul manto stradale.